È incredibile, mi ha raccontato questa cosa, lui aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco e non si è accorto di nulla, ha sentito dice come un fortissimo crampo alla schiena che era il coltello di questa persona qui. Probabilmente l'ha salvato la sua altezza immaginavo io perché è stato colpito qui perché poi lui purtroppo ha visto questo delinquente che ha accoltellato alla gola una persona, non lo so se è qualche morde, ha visto tutto quello che è successo, qualcosa di sconvolgente. Come sta? Non ha ferite alla schiena, adesso ha la bocca, lui non ricorda, forse ha avuto una coltellazione, chi lo sa, gli ha dato due punti qui al labbro, è ferita la schiena che per fortuna ha lesionato i muscoli e non i polmoni o organi vitali, quindi non è in pericolo, certo che è qualcosa che ha sconvolto la squadra, tutti volevano venire qui, abbiamo pregato di non venire perché non si può neanche stare in troppi qua ed è qualcosa di sconvolgente. Poi io penso, questa povera ragazza che è morta, se non sbaglio è una ragazza di trent'anni, ho letto, quindi la moglie è qua, adesso i carabinieri la stanno interrogando appunto come testimone dei fatti. A livello psicologico come stai l'edicatore? A me è sembrato abbastanza bene, però io non sono un medico e quindi non vi so dire, comunque è lucido, è andata la moglie, poi io sono entrato con Palladino, lui è stato troppo forte, perché ha detto lunedì sera sarà in campo e quindi non lo so, è una forza incredibile. Sappiamo che ha parlato anche il presidente Berlusconi, cosa ha detto? Sì, il presidente Berlusconi ha pregato noi appunto che non potevamo certamente passare il telefonino, appunto di esprimere la sua vicinanza, il suo affetto e il suo augurio, il presidente mi ha chiamato due o tre volte, perché io l'avevo informato, ho chiamato anche Raffaele, insomma certo che è un qualche cosa di sconvolgente per Milano. Paolo Marì, lui dice che ha avuto suerte, mi ha detto esattamente questa parola, oggi ho avuto suerte, perché ha visto morire qualcun altro, quindi è una storia terribile, incredibile, di solito sono cose che succedono in altri paesi, in Italia non succedono quasi mai, pensare, niente, era con la famiglia nel supermercato a farne la spesa. Che messaggio vuole mandare dottor Gagliani alla famiglia della vittima? È un messaggio, io non ho capito, non so di questa persona, ma è un messaggio di vicinanza, di affetto, di, penso una persona lavora, va al lavoro al mattino e viene accoltellata da un pazzo e non torna più a casa, immagini non so se fosse sposata, avesse figli, ma avrà certamente una famiglia, non lo so, perché non ho letto niente. È qualche cosa che mi ha sconvolto, quando mi hanno telefonato mi hanno detto, hanno accoltellato Paolo Mari, non si credeva. Io pensavo che fosse, stessi andando perché questa sera al forum c'era un concerto di un complesso inglese, c'era X Factor di fianco, quindi io non pensavo che fosse a fare la spesa con la famiglia. Non so, non so parole. Grazie. Grazie a te. Grazie.